Dei sindaci che stanno decidendo la variante dell'ubicazione che prima di riprendere qualunque la U bisogna modificare l'intera U per essere incerti che a mano non diventare U. Poi c'è anche l'altra condizione che se volete il coordinamento può continuare questa quella dell'ubicazione. Qui voi conoscete meglio di me gli investimenti in alcuni punti di quel territorio e credo sono da rispettare che qualunque altra modifica fino all'ultimo rascinato che può essere organica nella migliore e soprattutto che fa sì che è anche lunga con tutti i nostri politici, con un gruppo pieno di autonomia per definire di quale può essere la soluzione di tutti. Io ho invitato anche i consiglieri provinciali perché voi conosce sempre di ordine della nuova provincia, ma sempre di esempio c'è un partito dell'Europa della provincia. Però ci temiamo a sensibilizzare un po' anche di tutti i consiglieri perché la provincia non è solo Tana, la provincia è D'Aletrana e chi non lo sa meno di quanto riguarda. Quindi qualunque decisione che può prendere anche il consigliere Sant'Aletrana che non appartiene a Sant'Aletrana perché non solo rispettare ma in termini di proposti, riferimenti, impegni e soprattutto garanzia di passionalità per proporre qualunque discorso. Io vorrei ascoltare e adesso mi integra con la possibilità di fare un documento di coordinamento che possa avere queste caratteristiche. Allora, quindi richiesta della provincia di D'Aletrana, dunque la ubicazione proposta che sia la sintesi e soprattutto il massimo della adesione dei territori rispetto a quello che è la valutazione, rappresentata da ogni singolo singolo. Io ho invitato anni e gli altri che mi hanno dato adesione, sicuramente e soprattutto un po' dell'ingualmente, se non avete scusato, perché ci avranno una chiave importante, un momento istituzionale che con un corpo della loro presenza e noi andiamo se volete con un impatto che possa...